ciao benvenuti in questo nuovo assaggiamo come leggete dal titolo qui sotto tornano le pringles su questo canale ogni tanto trovo qualche gusto particolare nel supermercato che c'è qui nel mio comune in cui vado abitualmente oggi abbiamo appunto ben due gusti particolari che non avevo mai assaggiato e che non sono tra quelli classici se siete interessati ad uno dei due potete muovervi tra i capitoli che trovate sulla timeline qui sotto e partiamo subito con le pringles al gusto ketchup che sono quelle che mi incuriosiscono un pochino di più vi faccio vedere la confezione ovviamente ricorda le confezioni quelle classiche abbiamo una patatina che si tuffa in un vasetto di salsa vi mostro anche gli ingredienti i valori nutrizionali e vi faccio vedere che queste patatine sono vegetariane ma non vegane andiamo ad aprire e poi anche ad assaggiare ok ci ho messo meno del solito stavolta l'odore ricorda tantissimo le patatine quello al gusto pizza oppure pomodoro per cui andiamo ad assaggiare effettivamente sanno di pomodoro chimico sostanzialmente non sono eccelse però comunque sia sono mangiabili se vi piacciono le cose tipo gusto pizza ma non vi piace l'eccessivo origano che ci mettono sopra queste potrebbero essere una buona soluzione passiamo quindi al gusto numero due quello un pochino più particolare in teoria perlomeno e sono queste pringles al gusto texas barbecue sauce vi faccio vedere anche qui la confezione che non è niente di che la vediamo questa patatina infilzata su uno spiedino passiamo quindi agli ingredienti e ai valori nutrizionali come al solito questa volta però oltre ad essere vegetariane queste patatine sono anche vegane cosa che in realtà non mi aspettavo in realtà pensavo fosse magari il contrario andiamo ad aprire e anche ad assaggiare come profumo non mi dicono nulla in realtà andiamo a prendere una patatina in realtà sono un pochino più colorate rispetto alle altre non sembra dall'odore però effettivamente hanno quel gusto un po' da barbecue da salsa barbecue mi ricorda molto la salsa worcester per cui veramente approvate se le trovate e vi piace appunto questo tipo di gusto secondo me sono perfette per voi bene ragazzi se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like se non siete iscritti iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella perché oltre ai video settimanali che vengono programmati man mano possono arrivare anche dei video a sorpresa se anche voi avete trovato e assaggiato queste pringles fatemelo sapere con un commento qui sotto se vi sono piaciute o meno sempre qui sotto ma in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta delle mie avventure noi ci vediamo al prossimo video have a nice life